E parlando di competitività ci sono però anche altre cose. Nelle catene di approvigento globale abbiamo incontrato delle strassature a causa delle politiche deliberate di altri paesi. Basti pensare alle restrizioni sulle esportazioni dalla Cina, di Gallio e Germania, elementi essenziali per produrre semiconduttori e pannelli solari. Questo dimostra perché per l'Europa è tanto importante rafforzare la sicurezza economica riducendo i rischi senza disaccoppiarsi. Questo concetto ha trovato ampio sostegno fra i parti principali dell'UE, dall'Australia, Giappone, gli Stati Uniti e vari altri paesi nel mondo desiderano collaborare su questa linea. Di questi molti dipendono eccessivamente da un unico fornitore di materie critiche. Altri, dall'America Latina all'Africa, intendono sviluppare industrie locali di trasformazione e raffinazione. Senza limitarsi a esportare all'estero le proprie risorse. Per questo motivo, entro quest'anno, convocheremo la prima riunione del nuovo club delle materie prime critiche. Allo stesso tempo continueremo a promuovere un commercio aperto ed eco. Finora abbiamo concluso nuovi accordi di libero scambio con Cile, Nuova Zelanda e Kenya. Dovremmo puntare a concludere anche gli accordi con l'Australia, Messico e Mercosur entro la fine dell'anno. Seguiranno poi l'India e l'Indonesia. Io sono convinta che il commercio intelligente crei posti di lavoro di qualità e anche benessere. Onorevoli deputati e deputati, queste tre sfide, quindi la mano ad opera, l'inflazione e il contesto imprenditoriale, emergono in un momento in cui chiediamo all'industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi essere più lungimiranti e definire una modalità per salvaguardare la nostra competitività. Ecco perché personalmente ho chiesto a Mario Draghi, che è una delle più grandi menti dell'Europa in materia economica, di preparare una regazione sul futuro della competitività europea, perché l'Europa farà tutto il necessario, costi quello che costi, per mantenere il suo vantaggio competitivo.